Siamo con l'assessore allo sviluppo sostenibile Dina Merlo, che oggi presenta il piano che in realtà comincerà il prossimo anno di rigenerazione ambientale. Sì, noi stiamo programmando un po' l'attività del prossimo anno, che sarà il primo anno della vera e propria programmazione di questa amministrazione e in questo senso un ruolo fondamentale sarà anche quello della progettazione ambientale. Progettazione ambientale che si inserisce un po' nei processi di riordino urbanistico della città e che vuole creare anche una città più smart con maggiore attenzione al risparmio energetico, all'assorbimento idrico, alla permeabilità e a problematiche di riqualificazione del verde. Noi abbiamo a disposizione una serie di polmoni verdi in città che tenderemo a mantenere e ripristinare, in particolare l'impegno è anche quello di riacquisire la gestione di Parco Langer e in questo senso il parco è stato in questi mesi rimesso in sicurezza grazie all'azione del servizio forestale e a breve ci sarà anche un intervento del demanio. La funzione di queste aree verdi è innanzitutto quella di ripristinare dei servizi ecosistemici collegati un po' alla loro funzione ecologica ma anche a una funzionalità sociale, didattico, ricreativa collegata quindi alla fruibilità da parte della cittadinanza. Tutto questo lo intendiamo realizzare con il contributo e la collaborazione già dimostrata e peraltro che abbiamo già realizzato con le associazioni del mondo ambientale e con le quali intendiamo anche realizzare delle convenzioni specifiche per migliorare la gestione di queste aree. Grazie.